Nuovi Kanzashi realizzati ieri, si tratta di coppie di spilloni per capelli realizzati in resina, sono leggerissimamente più corti dell'altro spillone che è dimostrato nell'altro video questi li ho realizzati in polvere di mica fucsia glitterata con l'aggiunta di mezze perle, di due mezze perle di due differenti misure questi sono stati realizzati invece in resina UV e glitter dorati, quindi sono trasparenti e poi l'ultimo modello sono questa coppia appunto di Kanzashi realizzato con azzurro perlato e per il fiocchettino di neve ho utilizzato dei flakes iridescenti e resina UV, semplice